Il comune di Castelli ha presentato il ricorso al TAR contro l'esito del bando regionale da 20 milioni di euro per il Borgo dei Borghi, che ha visto l'unico comune terramano candidato piazzarsi al terzo posto dopo Calascio, il secondo classificato, Lama dei Peligni. Il progetto Castelli-Borgo Internazionale della Ceramica si è basato su tre direttrici principali, la sede storica del Museo della Ceramica inagibile per il terremoto, il liceo grue che aspetta il riconoscimento di scuola rara e il comparto artigiano. Lo stesso ricorso è stato presentato anche dal comune di Lama dei Peligni, per questo il 25 maggio si riunirà alla Camera il Consiglio del TAR per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, ma nel frattempo l'organo di giustizia amministrativa ha sospeso il finanziamento a Calascio. Abbiamo notificato il ricorso al TAR, dopo una lunga discussione all'interno dell'amministrazione, però lo riteniamo un passaggio dovuto, perché innanzitutto penso che questi fondi del PNRR sono per il nostro territorio probabilmente l'ultima possibilità di rilancio, ma credo che abbiamo anche una responsabilità rispetto alla provincia, perché sapete bene, voi avete eseguito la questione, abbiamo fatto sintesi con i comuni della provincia, abbiamo messo in piedi una rete istituzionale, e quindi è anche giusto che la provincia di Teramo, che come al sud è sempre la Cenerentola, faccia sentire la sua voce sotto questo aspetto. Noi abbiamo presentato un progetto importante che passa per il liceo, per il museo, e adesso vedremo, ovviamente è avviato un percorso giudiziario, vediamo il tribunale amministrativo cosa ci dirà. Ci sono delle questioni abbastanza evidenti che abbiamo già evidenziato, per esempio il progetto di Rocca Calascio si fonda quasi per la totalità sull'acquisto di immobili privati, è sull'avviso che la regione ha pubblicato, era proprio esclusa questa fattispecie, che è qualcosa che ha limitato non poco il nostro progetto, perché noi per esempio uno dei miei sogni è quello di recuperare l'area ex Spica, noi non l'abbiamo potuta considerare perché essendo di un privato non potevamo rilevarla, avessimo avuto questa possibilità avremmo fatto un altro tipo di progetto, perché comunque la capenza economica per fare questo c'era, quindi ci ha pregiudicato non poco e quindi troviamo qualcosa che non possiamo tollerare.